Era il momento giusto per poter donare il pane, visto che c'è un momento di crisi, come simbolo del bene primario, il pane era proprio l'ideale e quindi con Fartigianato abbiamo deciso di fare questa iniziativa e donare tutti i beni di prima necessità, come anche il latte, le uova e la pasta. L'importanza del pane, non a caso voi, insomma, tra i pochi che siete stati aperti, avete continuato a lavorare anche durante l'emergenza coronavirus, quindi l'importanza proprio del vostro lavoro. Sì, in effetti noi non ci siamo mai fermati. Nonostante il pericolo che correvamo anche noi stessi nel panificio, dove incontravamo tante persone che venivano a prendere il pane, abbiamo continuato a fornire il nostro prodotto, che poi è alla base della nostra dieta mediterranea pure. Allora, Antonella Orlando, Antico Panificio Caroccia, Orlando di Stio Cilento. Ecco, un bel momento. Sono contenta di aver fatto questa iniziativa con Fartigianati di Salerno e ho preparato il nostro pane per offrirlo a chi ne ha bisogno al momento. Donare del pane è sicuramente un gesto che racchiude in sé tanti, tanti significati. Il vostro lavoro non è facile, vi azzaldi di notte, di buon mattino, ecco, però poi sempre pronti col sorriso. Sì, sì, questo è vero. Quindi grazie a Fartigianato siamo contenti di dare questo contributo alle persone più bisognose, quindi meno fortunate di noi, perché noi grazie a Dio in questo periodo abbiamo continuato a lavorare, quindi ci fa piacere donare, anche se noi siamo stati a rischio con questa pandemia che c'è stata, però siamo comunque contenti di aver fatto questo gesto, quindi per aiutare queste persone meno fortunate di noi. Da Piaggine? Da Piaggine, sì. Quanto è stato difficile un centro dell'entroterra affrontare e superare questo periodo di difficoltà? È stato difficile perché siamo stati molto attenti, quindi, alle persone, anche per abituare le persone all'ingresso del panificio, perché c'era comunque questo pericolo, questa paura di prendere questo virus, però grazie a Dio ce l'abbiamo fatta, quindi siamo contenti di aver contribuito anche per il popolo, quindi non aver fatto mancare questo bene di prima necessità e quindi siamo soddisfatti anche di tutto ciò che abbiamo fatto fino ad adesso. Un bel momento di solidarietà. Sì, tantissimi, bei momenti. Qual è il vostro messaggio in questo momento? Aiutare chi ne ha bisogno. Noi siamo disponibili, siamo aperti per tutti. Dove c'è bisogno, là siamo noi. Ci saranno altri momenti simili? Si sta facendo qualche altro comune avanti che ha chiesto la nostra collaborazione, anche forse Battipaglia, andremo... Chi ci chiede? Noi che la siamo. Già nel nostro piccolo lo facciamo, non c'è bisogno di fare queste manifestazioni. Almeno a lei a Salerno lo facciamo.